Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video post Juventus Porto, finisce 3-2, vinciamo ma chiaramente per la magica regola dei punti e dei gol in casa di trasferta fondamentalmente non possiamo noi. Il Porto passa, passa la prevenzione in casa 2-1, aver fatto due gol allo stadio quest'oggi. Una partita che è stata veramente difficilissima da tutti i punti di vista, è difficile anche per me cercare di capire, trovare un esso logico tra quello che è successo, tra il primo tempo, il secondo tempo, i supplementari, gli episodi, o il fiatone perché capirete anche voi, è stata veramente una partita che mi ha lasciato veramente basito da tutti i punti di vista, è un misto di emozioni contrastanti, da quelle positive dell'euforia e della gioia e dell'entusiasmo dei gol fatti, a quelle dell'ammarezza dei gol subiti e anche all'ammarezza dei gol fatti, l'ultimo gol che arriva il 3-2 dopo il 2-2, praticamente nello stesso minuto dopo il pareggio momentaneo del Porto. Quindi veramente è un turbinino di emozioni che non so neanche come decifrare, tanto che anche fare adesso è una delle poche volte di tutte gli Uplanit quando faccio YouTube che non riesco, anche secondo quello che è il mio modo di fare, è sempre molto razionale, di fare un commento a freddo già dopo questa partita. Tante sono le partite che ci hanno messo in difficoltà così, che sono difficili da decifrare, tanti ribaltoni eccetera eccetera, non mai come questa volta sono veramente molto contrastato, come stesso con le mie idee, perché è un anno particolare in cui si vede tutto il contrario di tutto, fase in cui fai benissimo, fase in cui fai malissimo e tutto nello stesso momento. Credo che sia il primo anno che succede questo e veramente sono molto in difficoltà, oltre che chiaramente ho il fiatone, quindi probabilmente arriverò alla fine in apnea. È una partita che inizia con un primo tempo in cui la Juventus viene presa a pallate. Partiamo da questo presupposto. Le pallate che subisce la Juventus, non pallate nel senso che alla fine abbiamo subito un gol, però fondamentalmente la Juventus in primo tempo non fa la partita che avrebbe dovuto fare. Vi aspetto, è una Juventus che doveva ribaltare il risultato, che partisse subito bene. Non che ci siano particolari errori dal punto di vista dei giocatori, perché alla fine troviamo sempre anche un giro palle interessante e così via. Il problema è che ci ostiniamo troppo a cercare le solite soluzioni, che sia gioco sugli esterni, col giro palle estra-sinistra, o che sia lancio lungo, spesso cercato da tutti i giocatori in campo e con risultati non soddisfacenti. Il secondo tempo, se lo portiamo avanti bene, arrivando al v1 che ci porta i supplementari, è purtroppo, va detto, grazie solo al fatto che restano in 10. Restano giustamente in 10, quindi chiaramente è giusto così, non è che ci hanno fatto un favore, però è anche vero che senza quella dell'handicap numerico non avremmo avuto il risultato ottenuto da uno. Perché parliamoci chiaro, 11 contro 10, al di là dei due gol, tante occasioni sprecate e comunque il Porto regge bene. Quindi il Porto è una squadra che oggi è venuta allo Stadium a fare la partita. La cosa che noi dobbiamo capire è che il Porto in due partite, anche quella in casa in cui poteva, in casa nostra, che poteva anche tre risultati e fare catenazzo, hanno fatto la partita. Nel complesso il Porto ha giocato meglio di noi, perché poi se mettiamo l'handicap del 11 contro 10, è chiaro che una squadra che subisce, sì, ma subisce anche, legato a questo motivo qua, e non subisce più di quanto avremmo dovuto lasciare loro prendere come gol, vuol dire che ha giocato bene, probabilmente il Porto è giocato bene, è uscito molto bene e nei 108 minuti questa vittoria, questa qualificazione è più meritata per il Porto, sia chiaro. Poi arrivano i supplementari, e qui arrivano le bestemme, perché se il 2-1 i supplementari, cioè la pro dei supplementari, era in qualche modo anche meritato da parte nostra, perché parliamoci chiaro, ripeto, come detto prima, se c'è l'espluzione va data, appunto, c'era, va data, è stato bravo l'arbitro in quell'occasione, poi l'arbitro ha fatto veramente di tutto e di più dopo, ma questo è un altro discorso. Le supplementari si vede tutto, si vede la Juventus che subisce un gol su una punizione, la subisce in quel modo, si ostina a cercare, chiaramente dovuto alla fretta, all'ansia di cercare di risultato, soluzioni stupide e praticamente ormai inutili, cioè fare sempre il prossimo mezzo senza un equilibrio, senza un obiettivo, senza sapere a chi mandarla sta palla in mezzo, alla fine è stato controproducente, e questo sono i copioni tutti i 30 minuti, delle supplementari. E poi la cosa che mi fa arrabbiare, veramente mi ha fatto arrabbiare più il 3-2, cioè aver fatto il gol che averlo subito, cioè nel momento in cui ha fatto 2-2, i supplementari è così, cioè prima o poi uno vince e uno perde, parliamoci chiaro, è così, cioè non è che si va all'infinito, potevamo portare i rigori e lì uno vince e uno perde, ma il fatto di subire il gol e di fare il 3-2, che è inutile perché il 3-2 ti dà pareggio aritmetico, ma non ti dà la qualificazione, dopo un minuto, dopo che per 30 minuti hai tirato da ogni dove e tra le parate portiere, tra la tecchettina addosso, tra le scelte sbagliate dei nostri, mi sembrava quasi una presa per il culo, cioè avete il rabbiò che fa il 3-2 quando ormai il 3-2 non serve più un cazzo, mi sembra una presa per il culo, ora non è che il rabbiò, l'abbiamo fatto anche bene, faccia la mia summa, cioè non è morto nel senso, voglio dire, l'abbiamo fatto molto bene e mi è piaciuto anche, devo dire la verità, però il fatto che arrivi il gol in quel momento mi sa tanto di presa per il culo, cioè che il destino, il karma, quello che volete, ci prende per il culo, è palese, perché il 3-2 se lo avessi fatto, quindi il 3-1, un minuto prima, prima di subire il gol, magari il Porto il gol non lo faceva, e il 2 è riqualificato, ma stavano 5 minuti alla fine della partita, poi chiaramente possiamo parlare delle occasioni, nell'ultimo minuto ci sono delle occasioni importanti, ci sono occasioni importanti, sono traverse, il campo è così, così come il Porto ha fatto l'occasione nel primo tempo specialmente, qualcuno potrebbe aggrapparsi all'arbitraggio dell'arbitro, qualcuno potrebbe aggrapparsi, io ho il dubbio, non tanto sulle rigore, su De Ligt, che sembrava, però si capisce un cacchio, quando è piuttosto l'uscita del portiere, Marchesin, Marchesin, io sono Marchesin di cognome, purtroppo scusatemi, su Cristiano Ronaldo, a me sembra che la palla passa attraverso le gambe, più che la tocchi proprio il portiere, devo dire che un'uscita così molte volte viene catalogata come rigore, ma non è tanto questo ragazzi, parliamoci chiaro, in questi 180 minuti è la Juventus che ha perso questa partita, ora l'arbitraggio dell'Europa sono peggiori dei nostri perché sono veramente scarsi secondo me gli arbitri europei e per quanto il metodo di giudizio dell'arbitro fosse molto fate pure, picchiatevi pure, mi sta anche bene, è stato spesso incoerente con alcune decisioni, cioè ha magari guardato veramente il pelo sull'uovo e poi praticamente ha lasciato correre falli in cui si spaccavano tutti, ecco però al di là del discorso arbitrale, in 180 minuti la Juventus ha meritato di uscire, parliamoci chiaro, i 90 minuti giocati l'altra volta con il 2-1 sono 90 minuti osceni e oggi solo un'impresa cosa che non si è vista poteva ribaltare quella selezione là, quindi in 180 minuti il portabilitato c'è poco da fare, possiamo appellarci a quello che vogliamo l'arbitraggio, la rabbia, quello che volete ma veramente in questi 180 potevano anche non darci 10 rigori ma per quello che hai fatto o non hai fatto è il portabilitato, c'è poco da fare, poi potremmo parlare del fatto che oggi in questa partita un chiesa stellare da top del mondo, da top player e purtroppo ad esempio Ronaldo ha fatto malissimo secondo me ha fatto male Morata si è sembrato un po' di più Morata di Ronaldo ma ha fatto male Kuluseschi entra in campo e fa male il centrocampo Ramsen c'è una pista che non capisco più ma ha fatto bene Arthur ha fatto bene Nabilio la difesa ha letto bene se non fosse per il finale ma fondamentalmente ha letto bene speciale nel primo tempo al di là degli errori di Miral sul rigore diciamo così non ci ha letto bene Verità anche Alexandro non mi è dispiaciuto specie nella parte finale perché ha letto veramente fisicamente si è anche preso un po' la squadra sulle spalle Quadrado devo dire che è cresciuto nel secondo tempo il primo male quindi anche prestazioni molto attraenanti questo alla fine ti fa pagare la prestazione perché tu oggi dovresti giocare 90 minuti al top al massimo non concedere nulla hai concesso il primo gol che già questo è un problema e poi alla fine quello che è successo nei supplementari è l'ammazzata finale l'abbiamo perso meritoriamente ora c'è da fare sicuramente qualche analisi in più sul nostro cammino europeo che si ripete in modo così così malandato anche quest'anno ma la faremo con calma più a freddo perché bisogna sbollire la rabbia in mio caso non è solo la rabbia che è la rabbia dagli ultimi minuti ma è l'amarezza di una Juventus che non che ha dei problemi evidenti in Europa se in campionato la Juventus non riesce a trovare una continuità non vedo come posso trovare in Europa ecco questo è un discorso anche perché la Juventus si è abituati a trovare continuità solo in Italia non in Europa anche su questo tema qualche domandina qualche risposta va trovata ma questo lo faremo più a freddo perché adesso non mi pare che sia l'umore giusto per farlo in ogni caso forza Juve perché purtroppo anche in questi momenti viene fuori il tifo vero si sostiene la squadra fino alla fine fino all'ultimo giorno di questo campionato e anche in previsione del prossimo Europa League sì buonanotte parlo già come la Champions League è un obiettivo che forse non è roba per noi però ecco quindi pensiamo al campionato che ci manca quello e ci manca una finale di Coppa Italia forza come sempre alla prossima ciao siamo sempre qua storie in bianco e nero dove abbiamo solo un ruolo visto da comparsa ciao ciao